Ciao, mio nome è Claudio Agostinelli e sono dall'Italia. Sono qui per partire la mia esperienza nel progetto Erasmus Plus. In questo progetto ho molti nuovi esperienze, quando normalmente non posso, nella mia vita normale. È una esperienza molto unica. È una esperienza molto interessante parlare con le persone del paese per la cultura. Le persone che hanno fatto una cucina, altre altre ricette, le persone che cucinano. È una buona esperienza per me e per tutte le persone che hanno fatto questo progetto. Anche spero che la prima volta in tua vita dovresti fare questo progetto Erasmus Plus, perché è una unica e perfetta esperienza per tutte le persone. C'è un problema.